Eccoci qua con Indre Sorokaite, nuova giocatrice della Savino del Bene Volley Scandicci, benvenuta. Raccontaci allora quali sono le tue prime impressioni per questo approdo a Scandicci. Sì, sono tanto contenta perché arrivo in una società che ambisce al massimo, ha di grandissimi obiettivi e sicuramente sta dimostrando un ottimo gioco di squadra e quindi non vedo l'ora di essere aggregata anch'io. Allora, seconda parte di stagione nella quale Scandicci cercherà l'approdo in Europa. Quali sono i tuoi obiettivi per questa seconda trancia di campionato? Sicuramente di inserirmi al più presto al gioco di squadra, sicuramente dare l'animo perché penso che sia, oltre magari all'esperienza e a livello tecnico, un valore aggiunto quindi dare una carica in più a tutta la squadra per ovviamente raggiungere gli obiettivi prefissati. Senti, la tua è una carriera di tutto rispetto, due Champions League con Bergamo, una Coppa Italia, le vittorie anche nel 2019 con Conegliano, la Supercoppa, insomma tanti trofei. Qual è il segreto per vincere e qual è stato il tuo percorso nella palla a volo? Quali sono i momenti migliori che ricordi? Sicuramente ho una carriera lunga, quindi ho veramente un bagaglio importante di esperienza. Sicuramente quei trofei che sono riuscita a raggiungere grazie alle mie compagne sono stati magari la ciliegina sulla torta, però sicuramente quello che dico sempre, il duro lavoro ripaga sempre, la disciplina e ovviamente la forza del gruppo, quindi la palla a volo senza la forza del gruppo non esiste, per cui è tanto importante l'amalgama e tutte le volte che ci siamo trovate bene e abbiamo combattuto dall'inizio alla fine come magari il mondiale per club è la dimostrazione che nella palla a volo non bisogna arrendersi mai finché cade l'ultima palla, quindi questa è un po' la mia mentalità insomma di lottare fino all'ultimo momento e credo e spero di poterlo dimostrare anche qua perché penso che per arrivare in alto e a vincere la mentalità vincente è anche questa che ognuno sa proprio quello che deve fare e lo fa al meglio e con una grande grinta. Tra l'altro un DNA vincente perché tuo fratello Paulius gioca a Varese in Serie A a Palacanestro. Qual è il segreto della vostra famiglia? Sicuramente tanta comunicazione, noi abbiamo un bellissimo rapporto e ci confrontiamo spesso anche se è più giovane spesso gli chiedo i consigli perché penso che il basket è un gioco molto più veloce e quindi molto più di situazione e quindi tante volte cerco di apprendere anche da quello che si può imparare anche se è uno sport diverso, però sicuramente arriviamo da una grande spinta dei nostri genitori da una mentalità sportiva e come ben si sa per arrivare a fare il professionista deve esserci al 360 gradi quindi dare tutto te stesso e quindi questo l'ho avuto già dalla famiglia dai primi giorni e continuiamo diciamo il nostro sogno che adesso è diventato il nostro lavoro e cerchiamo di raggiungere i nostri sogni insieme e sicuramente ci sosteniamo tanto e questa è la cosa più importante perché nei momenti di felicità siamo felici uno per l'altra e invece nei momenti di difficoltà ci sosteniamo tanto e questo è una grande spinta. Senti hai girato il mondo veramente per la palla a volo dal campione italiano a quella a zero al Giappone ecco quali sono le differenze che hai notato tra i vari campionati? Ne potrei parlare veramente per ore e ore perché ovviamente tra soprattutto il campionato giapponese è molto diverso però a livello come giocatrice, come atleta posso dire che sono stati tanto utili per poter formare la mia personalità sia da donna sia da una persona insomma normale che da professionista e sicuramente il punto lo metterei soprattutto nel campionato giapponese è la difesa, la ricezione e quello che riguarda la ripetizione, la tecnica, l'attenzione alla tecnica perché magari non avendo questi dati fisici lavorano tanto e essendo una squadra la nazionale comunque tra le 10 migliori al mondo penso che lo sanno far bene e loro ne dimostrano ogni anno e sicuramente però il campionato italiano secondo me è il più forte del mondo lo sta dimostrando negli anni, ci sono i giocatori più forti del mondo ed è molto bello potersi confrontare e secondo me per questo anche il nostro livello della nostra nazionale è così alto perché abbiamo la possibilità di giocare veramente tutte le stagioni di così tanto alto livello per cui è molto importante per noi potersi migliorare soprattutto per i professionisti di crescere ogni giorno, ogni anno quindi tutto questo fa sì che il bagaglio poi che mi porta qua Troverai molte ex compagne qui a Scandicci da Enrica Merla, Verona Cangeloni a Sara Alberti le hai già sentite, sono stati importanti per la tua scelta? Sì le ho già sentite, le conosco tutte e quindi sarà molto più facile ad inserirsi sarà sicuramente molto più veloce come tempi perché già mercoledì c'è una gara che ci aspetta quindi è importante concentrare le energie e tutto il tempo che ci rimane alla prossima partita sicuramente è importante perché trovarsi bene con la squadra di solito ci vuole tanto per entrare in un gruppo che è già formato ci vuole tempo e poterle conoscere già averle conosciute prima a livello caratteriale ma anche a livello tecnico insomma so bene quello che posso richiedere, quello che possono chiedere loro a me e soprattutto sanno questo mio modo molto disciplinato in cui è il mio atteggiamento in cui io affronto ogni allenamento, ogni partita quindi per me sarà molto più facile perché mi conoscono già Per chiudere un saluto ai tifosi di Scandicci Assolutamente sì, un grande saluto a tutti voi spero che verrete in tanti a sostenerci perché è molto importante credo che il tifo è un giocatore in più in campo quindi per noi conta tanto Grazie